Ieri mattina a Caltanissetta i poliziotti delle volanti a seguito di una chiamata alla 113 sono intervenuti in un supermercato di via De Gasperi dove la guardia giurata in servizio poco prima aveva bloccato una donna che dopo aver pagato degli yogurt alla cassa aveva superato le barriere anti-taccheggio tentando di allontanarsi. La guardia giurata ha riferito ai poliziotti di aver notato la donna in atteggiamento sospetto e con un rigonfiamento sotto il lungo cappotto e di averla quindi invitata a seguirlo in ufficio. La donna vista si scoperta aveva consegnato spontaneamente prodotti trafugati poco prima quattro confezioni di formaggio due vaschette di carne diverse confezioni di pesce surgelato caffè prodotti bio scatolette di tonno e altro. La merce è stata riconsegnata al supermercato la donna invece è stata condotta in questura e denunciata alla locale procura della repubblica per furto aggravato.